Più di un miliardo di persone non ha accesso proprio all'acqua, due miliardi di persone si bevono questa ammunnezza, un altro miliardo sta all'atienemocatotengo voi fate parte di quella percentuale di persone che apre il rubinetto e beve l'acqua. Amref sta in Africa, in gran parte all'Africa, organizzando la possibilità di avere accesso all'acqua potabile. 45508 basta poco che ci vuoi sostieni Amref. D'altra parte vuoi a me il problema dell'acqua come non importa, io bevi il vino.